eccoci qui siamo tornati in compagnia di Angelo Piras nel ristorante San Domenico di Chieri abbiamo già fatto con lui una prima eh puntata diciamo attorno alla cucina del territorio eh ricordo con una ricetta eh con protagonista la gallina bionda di Villanova eh parlavamo del San Domenico in questo momento rispetto a un attimo un periodo di chiusura in attesa ovviamente di poter tornare presto ehm a trovarvi eh una cucina che va dal pesce alla carne ma è molto legata anche al territorio no? Sì certo è molto legata al territorio sia nel cibo ma neanche anche nel vino quindi i vini noi abbiamo una carta di vini immensa abbiamo circa mille e trecento etichette in carta quindi vini di tutto il mondo ma soprattutto puntiamo anche vini del territorio quindi dal più semplice eh che è appunto la fresa oppure il dolcetto barbera nebbiolo ma comunque in ogni caso la fresa di Chieri quindi conosciamo tutti i produttori che sono tutti quanti bravissimi noi in particolar modo ci serviamo da Valbiano che oltre a essere un grandissimo produttore è anche un amico comunque siamo in buoni rapporti con tutti abbiamo tutte quante le frese del territorio e Valbiano c'è un rapporto un pochettino diverso come a tutti capita di avere magari l'amico più più intimo in questo caso qui Luca è uno che ha tanta voglia di crescere è uno che sta seminando tantissimo e speriamo che porti questo prodotto in giro per tutto il mondo che ne vale la pena anche per far conoscere tutti gli altri produttori anche perché eh è un vitigno che ha una denominazione molto chiara fresa di Chieri quindi è veramente un eh un prodotto identitario di questa città di questo territorio e quindi è bene eh promuoverlo e utilizzarlo bene allora passiamo alla ricetta di oggi di cosa si tratta? Parliamo sempre dei prodotti del territorio in questo caso cuociamo degli agnolotini del Plin e con e poi vengono serviti dentro un cestinetto un nido di fieno magengo. Fieno magengo che sarebbe perché bisogna spiegarlo che non è una cosa usuale. La parola ricorda molto il nome quindi maggio quindi è un fieno che viene tagliato nel mese di maggio quando la campagna è in piena fioritura oltre ai fiori contengono anche delle erbe aromatiche queste conferiscono all'erba questo fieno che poi diventa quando è seco dei profumi particolari. Metteremo nell'acqua poi questi agnolotini vengono saltati con del sugo d'arrosto, burro e salvia e poi serviti dentro questo nido di fieno magengo che nello stesso tempo dà dei profumi sia al piatto ma anche come coreografia è molto bello. Quindi per dare anche questo profumo all'acqua gli agnolotti metteremo solamente un ciuffettino pieno che aromatizzerà immagino che questo fieno che adesso poi andremo eccolo qua a prendere avrà un profumo incredibile no perché è stato oltretutto conservato ma poi bagnato e anche per l'utilizzo quindi sprigiona davvero dei profumi meravigliosi. Certo e peccato che voi con le telecamere non potete sentirvi ma sentire questo profumo ma saremo noi poi a dirvelo che veramente ha dei profumi è stato messo a bagno per poterlo modellare altrimenti non si riuscirebbe a fare quello che vogliamo in questo caso lo imprecciamo in questa maniera lui diventa morbido facciamo questo nido in questa maniera e lo poggiamo nel piatto quindi già solamente. Ecco questo sicuramente sarà molto più difficile da replicare a casa a meno che uno non si ricordi a maggio di procurarsi il suo fieno. Siamo disponibili a darglielo noi dal ristorante. Facciamo il take away del fieno magico. Certamente. Abbiamo utilizzato sia come nota aromatica proprio dell'acqua di bollitura e sia invece come un cestino per cui emanerà semplicemente i suoi profumi quando andremo a degustare il plin. L'acqua l'abbiamo precedentemente salata. I plin sono fatti da noi con i tre arrosti quindi pasta fresca. Naturalmente ci sono tutti gli ingredienti soliti che si usano per fare gli agnolotti quindi 3 kg di carne, un po' di verdura, dell'uovo, del sale, del parmigiano, del pepe quindi viene cotta precedentemente questi arrosti poi vengono passati al passatuto, allo a trita carne e poi naturalmente conditi poi si fanno delle striscioline lunghe di pasta e poi si chiamano plin perché in piemontese plin vuol dire pizzicotto quindi ripizzichiamo in questa maniera. In questo caso vedo una sfoglia che c'è anche un po' una scuola diversa a seconda di quanti rossi d'uovo anche nella pasta. Tu che scelta hai adottato? Allora quando si fa la pasta fresca tagliolini queste cose così usiamo circa 30 rossi per ogni chilo di farina. In questo caso qui che la pasta deve essere un pochettino un po' più elastica usiamo un uovo per ogni eto di farina. L'importante è avere una sfoglia molto sottile e quasi in quanto la bontà dell'agnolotto del plin che sia si sente quando la sfoglia è molto sottile. Per esempio in quelli che magari si comprano nei supermercati nei centri commerciali che sono buonissimi perché ci sono dei grandi produttori anche a livello industriale però naturalmente hanno più pasta. In bocca si sente più la pasta invece noi dobbiamo sentire l'impasto. Poi naturalmente è anche importante il condimento. In questo caso noi le facciamo proprio classici sugo d'arrosto burro e salve. Anche il sugo d'arrosto naturalmente deve essere fatto nella maniera giusta. Per avere un buon sugo d'arrosto si prendono le ossa non delle ginocchia dove appunto hanno cartilagine ma bensì quelle dalla parte della schiena. In quanto sono più magre non hanno delle cartilagini. Si infarinano, si mettono in forno dentro una teglia alla massima potenza. In casa naturalmente i forni casalinghi arrivano a 250 gradi, quelli dai ristoranti a 300. Comunque si cuociano tra i 250 e i 300 gradi. Teoricamente si fanno quasi annerire quindi perdono tutto il grasso che hanno. In una pentola a fianco si fa un taglio di verdure quindi carota, sedano, cipolla, salvia, rosmarino, uno spicchio d'aglio o due anche dipende dal quantitativo che si fa. Si lasciano rosolare queste verdure e poi si aggiungono queste ossa dentro questi verdure. Si coprono di vino rosso. Una volta che il vino rosso è quasi scomparso si ricopre di brodo vegetale e si lascia cuocere per sei o sette ore. Quindi con una riduzione dando questo sugo a queste ossa. Una volta che naturalmente sono trascorsi queste cinque o sei ore di cottura le ossa si buttano via, la verdura si butta via perché ha lasciato tutti i suoi humor dentro a questo questo liquido, si restringe con un roux oppure della della maizena quindi per avere una consistenza. Una salsa insomma veramente che diventa poi lucida. A questo punto gli agnolotti sono quasi cotti, li togliamo dal fuoco per questione di spazio in quanto abbiamo una sola piastra. Mettiamo subito una padella antiaderente, aggiungiamo del burro. Quindi gli agnolotti hanno un tempo di cottura abbastanza breve perché quando l'acqua bolle che ritornano su, gli agnolotti sono pronti. Quindi veramente direi tre minuti forse, tre o quattro minuti. Facciamo scogliere il gusto di burro e vediamo un po' di gusto con della salvia che si possono mettere sia intere o anche solo. Una volta che il burro si è sciolto ecco qui anche in questo caso è solamente far sciogliere il burro, la salsa è già pronta, va solo scaldata. Quindi magari che diventa un po' difficile poterla conservare. Io consiglio magari di farne tre o quattro litri perché naturalmente c'è tantissimo tempo per poterla fare. E poi una volta che l'avete filtrata e tutto quanto la mettete dentro a questi scodellini e la potete congelare. Al momento che dovete usarla tirate fuori uno, due, tre scodellini in base agli ospiti che avete in casa e la mettete direttamente o in un forno microonde o direttamente in pentola e si ottiene questo risultato. Quindi visto che si sono dei tempi molto lunghi per poterlo fare giustamente quando si fa se ne fa un pochettino di più ma si possono conservare. I profumi veramente stanno si stanno sprigionando da questa padella dei profumi meravigliosi e questo credo che sia una tecnica anche di poter congelare che può andare bene con qualsiasi anche brodo, fumetto di pesce o no. Il trucco d'arrosto diciamo che in cucina è un trucco che è interessante insegnare. Per fare magari anche un filetto verde, delle scaloppine, si aggiunge un goccino di questa salsa che noi precedentemente abbiamo gelato in modo da poterla tirare fuori e per esempio uno fa a volte un filetto a casa ma non era buono come quello del ristorante. Certo perché non hai usato magari delle aggiunti di questi chiamiamoli insaporitori. Ok, qua mettiamo anche una mancettina di chiamiamola, questa cosa qui tira un po' di più di più la salsa. Qui veramente ormai penso che sia io che chi sta guardando da casa siamo ormai con con l'acquolina in bocca perché si mettono dentro al al nido di fieno e aggiungiamo magari nel bordo del piatto un po' di parmigiano qui mi scatterebbe l'applauso virtuale perché è davvero questo è un piatto che tu al San Domenico hai in carta o che hai in carta quindi viene voglia davvero di venirlo a assaggiare appena sarà possibile. Sia in carta e quando magari cambiamo il menu abbiamo una richiesta di se potrei avere quindi abbiamo sempre il fieno non bagnato ma lo bagniamo al momento magari in acqua calda per accelerare un pochettino i tempi i profumi sono sempre gli stessi e quindi si ottiene questo piatto semplice ma nello stesso tempo anche coreografico. Volendo magari in primavera quando si fanno questi questi piatti si possono aggiungere anche magari degli altri fiori che di solito ci sono nel territorio quando si fa questo fieno in questo caso qui c'è del timo, della menta, sono tutte erbe selvatiche che nascono appunto in campagna assieme alle erbe e poi adesso vediamo se abbiamo ancora un fiore eccola qua c'è fiori edibili esatto quindi questo che sono del nostro giardino che sono gli ultimi perché ormai stanno inizia a far freddo. Guarda Angelo davvero complimenti questo è un piatto meraviglioso completamente coerente con quella che è lo stile, l'atmosfera della campagna, della collina torinese, di tutto il Piemonte, quindi davvero complimenti per questa preparazione che dice tanto del territorio e dice tanto di una tradizione antica. Quindi grazie Angelo, Angelo Piras del ristorante San Domenico, ti ringraziamo moltissimo e ci diamo appuntamento a una prossima ricetta. Grazie, è molto gentile, naturalmente questi piatti che abbiamo fatto sono abbinabili appunto a quei prodotti del territorio, una buona fresa va benissimo. Innanzitutto una buona fresa di Chieri. Grazie.